la pecar della piaggio mi alzo alle 4 del mattino e poi vado al mercato e faccio il carico di cocomedi l'altro ieri a Casone vicino a Napoli ho forato un pneumatico perchè il fondo stradale non è dei migliori e si è ribaltato a pecar sono caduti tutti i cocomedi e ho avuto molta molta paura tutte le auto che passavano per Catania finivano sui miei cocomedi e nessuno mi soccorreva e qualcuno se ne approfittava io li dava aiuto sono prigioniero nell'abitacolo della pecar io li dava aiuto e portavo un'abitacolo e portavo un'abitacolo io li dava aiuto e mi dava aiuto e mi portavo un'abitacolo se trovo l'ottore del furto dei miei cocomeri non lascio a dare un discorso mi lascio restituire le bucce e i semi la gente crede di essere per bene e non la gente crede di essere per bene e non la gente crede di essere per bene